Liste d'attesa inchiesta sul Pascale 2 le ipotesi di reato, concussione e peculato. Si indaga per verificare se alcune pazienti malate di cancro al seno siano state dirottate verso soluzioni a pagamento in cliniche private. Al momento nessun indagato. Aiello è il nuovo vescovo di Avellino. Stamane la fumata bianca con l'annuncio del vicario Donenzo De Stefano. Al posto di Marino arriva il vescovo di Teano Calvi, 62 anni. Nel suo primo messaggio ai fedeli avellinesi cita Fabrizio De Andrè. Miracolo di San Gennaro all'ora della partita. Napoli si ferma nel pomeriggio in contemporanea. La prima liquefazione del sangue e il match al San Paolo degli Azzurri. A Castellammare invece per il calcio rinviata la processione del patrono. Pietrelcina Benevento nel segno di San Pio. Patto sul turismo religioso tra l'amministrazione del capologo Sannita e il comune della città del Frate delle Stimmate. Stamane la firma del protocollo d'intesa tra i sindaci Mastella e Masone. Smog in costiera, stop ai bus turistici. Disco rosso non solo durante le festività ma anche il sabato e la domenica. Sindaci e Anas cercano una soluzione ma Lega Ambiente accusa a Salerno la mobilità va ripensata. Napoli e Serie B oggi tutti in campo. Gli azzurri sfidano al San Paolo il Cagliari di Rastelli, obiettivo secondo posto. In Serie cadetta in trasferta Benevento ad Ascoli e Salernitana a Carpi. Avellino in casa contro il Bari. Dalle 15 la Maratona TV in diretta su 8 Channel. Buon pomeriggio, sabato 6 maggio. Eccoci di nuovo con l'informazione regionale di 8 Channel News. In apertura l'Istituto Pascale finisce di nuovo nel mirino della Procura di Napoli. È stata aperta un'indagine sulle liste d'attesa per gli interventi di tumori al seno. Ascoltiamo i dettagli. L'Istituto Pascale è scosso da una nuova inchiesta. Questa volta nel mirino della magistratura sarebbe finita la gestione dei tumori al seno. I carabinieri del NAS su delega della Procura di Napoli non sono certo passati inosservati ieri mattina quando sono tornati in ospedale per fare le ultime verifiche. Hanno ascoltato alcuni pazienti e hanno chiesto di visionare registri e documenti legati agli interventi. Hanno messo a verbale anche la versione di esponenti di primo piano dello staff medico che opera e che interviene quotidianamente. È così che si scopre che c'è un'inchiesta sulla gestione dei tumori al seno, sugli interventi effettuati, ma anche sulle condizioni di lavoro tra disponibilità pubbliche e opportunità di interventi in regime di intramenia. L'indagine è sulle liste di attesa sul corridoio in cui finirebbero i pazienti che devono essere operati al termine di una terapia antitumorale. Concussione è peculato solo al momento le ipotesi di reato su cui si lavora. Nell'inchiesta coordinata dal PM Graziella Arlomeide, magistrato in forza al pool del procuratore aggiunto Alfonso Davino. Fatto sta che dopo lo scandalo che ha coinvolto il primario Izzo, attualmente ai domiciliari per ipotesi di corruzione e turbativa d'asta in relazione all'acquisto di sofisticate attrezzature da ditte riconducibili alla moglie, c'è ora un'altra indagine che coinvolge i piani alti dell'Istituto Collinare di Napoli che ha fatto della cura ai tumori una delle eccellenze indiscusse nel mezzogiorno. Si indaga sul rapporto tra il Pascale e una clinica privata nel tentativo di verificare se esiste una sorta di corridoio alternativo a cui fare ricorso per abbattere i tempi di attesa. Una scappatoia ovviamente a pagamento. Al momento non ci sarebbero persone iscritte nel registro degli indagati ma sarebbe stato ascoltato anche l'ex subcommissario Oggi direttore scientifico del Pascale Gerardo Botti. L'apertura dell'ospedale del mare data per imminente dal governatore De Luca slitta ancora. Completato l'11 maggio 2016 sotto la guida del commissario Ciro Verdoliva il nosocomio dunque resta chiuso. In funzione ci sono solo i reparti di radiologia, radioterapia e dialisi inaugurati a dicembre. Per tutto il resto bisognerà attendere. De Luca aveva annunciato che l'ospedale del mare, i cui lavori sono iniziati nel 2006 quando era governatore Bassolino, sarebbe entrato in funzione in primavera. Ora il presidente della giunta regionale è stato costretto a rettificare ma si è sbilanciato di nuovo annunciando che l'ospedale del mare aprirà a fine anno. Andiamo ad Avellino, Arturo Aiello è il nuovo vescovo di Avellino. Stamattina la fumata bianca con l'annuncio da parte del vicario Don Enzo De Stefano al posto di Marino arriva così il vescovo di Teano Calvi, 62 anni. Nel suo primo messaggio ai fedeli avellinesi, Aiello cita Fabrizio De Andrè. Il Santo Padre ha nominato Sua Eccellenza Monsignor Arturo Aiello attualmente vescovo della dioce di Teano Calvi, nuovo vescovo di Avellino. Arturo Aiello è il nuovo vescovo di Avellino. Stamattina la fumata bianca con la lettera dell'annunziatura apostolica del Vaticano letta in curia dal vicario Don Enzo De Stefano. 62 anni, disse Iano Vico e Quenze, Aiello approda ad Avellino e lascia la diocesi di Teano Calvi dove era stato nominato vescovo il 13 maggio 2006 da Papa Benedetto XVI. Nel suo primo messaggio rivolto agli avellinesi, Aiello stupisce un po' tutti e cita Fabrizio De Andrè. Gioia e dolori hanno i confini incerti, cantava Fabrizio De Andrè. Cominciamo bene, no? Morte e vita si danno appuntamento come nel mistero pasquale, centro della nostra fede che stiamo celebrando. In questa fusione di lamenti e danze vi raggiungo e vi benedico per la prima volta come vostro vescovo. Ho visto che si è accolto con gioia questa citazione, sia da parte dei miei preti, dei sacerdoti, anche da parte della stampa. Può darsi essere una vendata di novità che ci porterà. Io lo conosco poco per la verità, non vorrei sbilacciarmi, ma io sono fiducioso. Spero che ogni persona ha delle qualità, delle doti che possa mettere a servizio la nostra chiesa locale e sono convinto che Sua Cerenza Arturo Aiello ci porterà un po' di entusiasmo e di passione. E Napoli oggi si ferma perché nel pomeriggio in contemporanea c'è il primo miracolo di San Gennaro e il match al San Paolo degli Azzurri contro il Cagliari. Intanto a Castellammare di Stabbia per il calcio rinviata la processione del santo patrono Catello. Sentiamo Rocco, fatti bene. Il Napoli questa sera sfiderà il Cagliari. Servono i tre punti per la rincorsa al secondo posto. Ma più che con i sardi, la squadra di Sarri dovrà fare i conti con San Gennaro nel giorno in cui i napoletani attendono il primo miracolo dell'anno. Processione nel centro antico e partita fuori grotta in contemporanea. Tutti aspettano la liquefazione del sangue ed il sorpasso sulla Roma. Sacro e profano ancora una volta mischiati nelle attese dei napoletani. Alle 17, mentre i tifosi riempiranno gli spalti, la processione col busso del santo patrono insieme con le decine di compatroni partirà dal Duomo e giungerà alle 18, ora di inizio della partita nel catino di fuori grotta nella Basilica di Santa Chiara, dove avrà inizio la celebrazione eucaristica. Da quel momento in poi, i napoletani, almeno quelli presenti in chiesa, dovranno dividersi tra le due fedi. Un occhio alle ampolle contenenti il sangue del martire e un orecchio agli auspicabili boati nel quartiere ad ogni gol di Mertens e compagni. Dalla città alla provincia la musica non cambia. Anche a Cassella Mare di Stabbia la fede calcistica è più forte della religiosità. La processione di San Catello, patrono della città, è stata infatti spostata per la concomitanza con la partita dei beniamini di casa. La Juve Stabbia, all'ultima giornata, si gioca le chance per il terzo posto nel girone C della Lega Pro. C'è il turismo religioso al centro di un protocollo d'intesa tra Benevento e Pietrelcina. È stato firmato questa mattina dai sindaci Clemente Mastella e Domenico Masone. Sentiamo Maria Teresa De Lucia. Benevento e Pietrelcina cammineranno insieme. È il senso del protocollo sottoscritto a Palazzo Mosti tra i primi cittadini Clemente Mastella e Domenico Masone. Un'intesa che si rinnova per lo sviluppo e una programmazione che possa premiare i territori. Vorremmo dare corso non ai protocolli, alle chiacchiere e altre cose, alla realizzazione di una ombelicalità Pietrelcina-Benevento che dia sostanze ad un turismo che adesso è pellegrinaggio e che poi possa diventare stanziale e irrorare, dare linfa al Benevento con la sua proposta culturale, storica, ambientale. Noi abbiamo l'obbligo di porre le basi per uno sviluppo decoroso, stabile e eco-compatibile che dia speranza ai giovani, ma non si può fare turismo se non si creano infrastrutture. La sinergia significa evidentemente che essendo confinanti noi possiamo utilizzare rispetto ai bisogni delle nostre popolazioni che sono confinanti risposte che siano comuni. E a suggellare il patto nei prossimi giorni la marcia a Benevento-Pietrelcina il cammino di riconciliazione e pace. Facciamo il 20 questa marcia che mettiamo in collegamento con la marcia Perugia-Assisi faremo la marcia della pace Benevento-Pietrelcina che partiremo il 20 mattina alle 9 dalla piazza Santa Sofia e ci sarà anche spero la presenza di un mio amico che è Padre Enzo che è il portavoce del sacro commedio di Assisi e verrà a suggellare questa forma di collegamento. Andiamo ora in costiera amalfitana, stop ai bus turistici non solo durante le festività ma anche il sabato e la domenica. Sindaci e Danas al lavoro per trovare soluzioni di tampone allo smog in costiera ma Lega Ambiente non fa sconti, Salerno è indietro. La mobilità va totalmente ripensata. Stop ai bus turistici che superano gli 8 metri di lunghezza proposta non solo nei giorni già individuati ad alta criticità di traffico come il 2 giugno, ferragosto, le festività natalizie ma anche in tutti i giorni prefestivi e festivi dell'anno è la richiesta avanzata dai sindaci della costiera amalfitana all'Anas dopo i due vertici in prefettura Salerno per affrontare le criticità legate al traffico. I ponti del 25 aprile e del 1 maggio hanno lasciato il segno con l'intera zona letteralmente sommersa dalle auto e dai mezzi pesanti e lunghissime code che hanno esasperato turisti e residenti proposta recepita da Anas e che andrà in vigore dal 1 giugno e questo dunque è il provvedimento adottato nell'immediato anche se non è risolutivo. L'obiettivo è ripensare completamente la mobilità come spiega ad Otto Channel il presidente regionale di Lega Ambiente Michele Buonomo. Siamo in ritardo come provincia di Salerno ma in generale come paese siamo in ritardo non più tollerabile. Se mettiamo per salato troppe auto qualsiasi sia la soluzione più strade, più parcheggi non risolveremo il problema. bisogna ripensare alle modalità di trasporto. Nei giorni scorsi la consigliera Amalfitana è stata intassata di auto sa quante auto sono passate in due giorni per minori in una strada che non è stata progettata per trasportare, per avere tante auto 47.600 auto è impossibile venirne fuori se non cambiamo le modalità di trasporto. La squadra mobile di Avellino ha arrestato un 27enne incensurato e denunciato un 49enne i due sorpresi nei pressi di una scuola spacciavano cocaina sequestrati ingenti quantitativi Paola Iandolo Spacciavano cocaina a due passi dalla scuola elementare di Rione Mazzini ad Avellino gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 27enne incensurato e denunciato un 49enne già noto alle forze dell'ordine i due sono stati sorpresi proprio mentre si scambiavano la droga l'operazione che ha consentito di sequestrare ingenti quantitativi di cocaina è stata condotta dal dirigente della squadra mobile Michele Salemme che questa mattina ha illustrato nei dettagli l'operazione alla stampa le due persone sono un ragazzo incensurato di 26 anni entrambi sono originati da Avellino un ragazzo incensurato di 26 anni e invece un altro soggetto di 49 anni pregiudicato già per reati inerenti gli stupefacenti il primo è stato è stato tratto in arresto ed è attualmente in carcere il secondo è stato denunciato in stato di libertà il vicequestore Salemi ha sottolineato che il fenomeno non è allarmante ma l'attenzione resta sempre alta il fenomeno è un fenomeno che è presente in tutto il territorio nazionale quindi questa città la provincia sicuramente non fa eccezione però per quanto possa considerarsi magari preoccupante il fenomeno io credo che debba considerarsi anche molto però confortante il lavoro delle forze dell'ordine per contrastarlo avvistato un esemplare di squalo volpe nelle acque di Policastro Bussentino nel Salernitano ecco la fotografia a darne notizia il sito di Repubblica Napoli come si vede dalle foto lo squalo è stato notato da alcuni bagnanti poco distante dalla spiaggia sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto che hanno fatto allontanare i bagnanti ed allertato gli esperti della stazione zoologica di Napoli lo squalo di circa 3 metri di lunghezza era già stato avvistato in mattinata a largo del golfo di Policastro gli esperti hanno precisato che si tratta di un esemplare di squalo molto diffuso nei mari tropicali e che normalmente non attacca l'uomo dopo anni di polemiche e ritardi dovuti anche alla politica e alla burocrazia questa mattina a Montefusco in provincia di Avelino è stata inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri per noi c'era Alessandro Fallarino a marzo dello scorso anno il sindaco di Montefusco Carmine Nierre Musto aveva consegnato le chiavi della stazione Carabinieri al maricciallo capo Francesco Barbano comandante della stazione dei Carabinieri di Montefusco oggi dopo 4 anni di attesa finalmente l'inaugurazione ufficiale con una cerimonia ricca di ospite a partire dal comandante della legione Campania Carabinieri generale Mario V dal sottosegretario di Stato Umberto del Basso dei Caron dai vertici di questura Carabinieri e guardia di finanza di Avellino la nuova sede della caserma è ubicata in via Pirro De Luca presso il palazzo Giordano immobile storico di architettura gentilizia ed è intitolata al capitano medaglia di bronzo al valore militare alla memoria Teobaldo Ernesto Caggiano catturato dalle truppe nemiche barbaramente ucciso a Corfu durante la grande guerra certamente è una giornata importante un evento straordinario organizzato alla grande dall'arma è un momento per noi per la comunità di ritrovo di riavere la nostra caserma dopo 4 anni di latitanza abbiamo fatto grossi sacrifici e quindi alla fine ci siamo riusciti inauguriamo intitoliamo una stazione carabinieri a due persone che si sono comunque contraddistinte due erpini in ambiti diversi ma che alla fine hanno sacrificato la propria vita per l'arma dei carabinieri per lo Stato la stazione dei carabinieri a Montefusco non è soltanto la location indiscutibilmente bellissima ma è anche e soprattutto un rinnovarsi della presenza dello Stato la presenza dell'istituzione anche nei piccoli centri è sempre importante perché era sicura per vicende infrastrutturali per qualche anno è dovuta essere ripiegata su altra sede il fatto che sia tornata qua è una cosa importante al termine della cerimonia il taglio del nastro e la deposizione di una corona di alloro in memoria di tutti i caduti e Sarno ha ricordato le vittime della tremenda frana di 19 anni fa messa al duomo di Episcopio e deposizione di una corona di fiori al monumento di Viale Margherita il sindaco Canfora quei morti si potevano evitare sono trascorsi 19 anni dalla frana che sconvolse la città di Sarno e in particolare la frazione di Episcopio e la zona di San Vito Santeramo un'enorme massa di fango e detriti seminò morte e distruzione senza lasciare scampo a 137 persone ricordare è un dovere per tutti i cittadini sarnesi non si può dimenticare una tragedia così immane eticamente corretto non dimenticare perché non dimenticare significa conservare la memoria storicizzare e far sì che tutto quanto è stato non avvenga mai più l'intera comunità di Sarno ieri pomeriggio si è raccolta in preghiera nel Duomo di Episcopio dove è stata celebrata una santa messa in memoria delle 137 vittime dell'alluvione al termine del rito religioso un corteo è partito da Piazza Duomo per raggiungere Viale Margherita dove è stata deposta una corona di fiori davanti al monumento dedicato alle vittime dell'alluvione qui il sindaco Canfora ha colto l'occasione per fare il punto della situazione sulla messa in sicurezza idrogeologica in questi lunghi quasi 20 anni oramai tanto si è fatto tantissimo si deve ancora fare soprattutto in sicurezza soprattutto in prevenzione certamente il bilancio è positivo avessimo avuto le opere di prevenzione che oggi stanno sul nostro territorio sicuramente non ci sarebbero state 137 vittime ad Avellino cade il numero legale e Foti inizia male la maratona in consiglio su bilancio e teatro il sindaco scaricato anche da Nicola Mancino l'ennesimo flop in consiglio comunale la maratona sul bilancio e lo scioglimento del teatro Gesualdo che parte sotto cattivi auspici in tre ieri i consiglieri di maggioranza festa genovese Miro hanno abbandonato l'aula al momento della verifica del numero legale facendo così saltare la seduta ancora prima che iniziasse ancora fuoco amico sul sindaco Foti che parla di attacchi inaccettabili alla sua persona ma che deve incassare un'altra battuta d'arresto si torna in aula lunedì in seconda convocazione in un clima pesante che ha fatto registrare anche i duri attacchi dei consiglieri di maggioranza Grella e Montanile all'assessore Penna per come sta gestendo l'emergenza rifiuti questa amministrazione si mantiene su uno o due voti è una richiesta continua di prebende di fatto a tenere in vita Foti e i suoi compari infatti ogni qual volta poi c'è da decidere su qualche argomento particolare di teatro comincia il solito walzer della richiesta la bizzarria appunto è il fatto che un consigliere di maggioranza si alzi e chiede il numero legale abbandonando l'aula insieme ad altri tre consigliere della stessa maggioranza ormai ci hanno rubato pure questo questo mestiere speriamo finisca presto perché onestamente vedere questi spettacoli quando si dovrebbe parlare di cose importanti è avvilente diciamo e intanto anche l'ex presidente del senato Nicola Mancino scarica Foti all'indomani del crollo dei votanti in città per le primarie del PD quattro anni fa fu un errore non farle io sono stato sempre per le primarie e Foti per la verità non l'ho indicato io la procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone per tutti le accuse sono di maltrattamenti ai danni degli anziani e dei minorati psichici ospitati all'hotel Stella di Acerno sentiamo Sarabotte maltrattamenti se vizie e violenze a subirli gli ospiti dell'hotel Stella centro di accoglienza per anziani di Acerno la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 dei 18 indagati tra le persone coinvolte che rischiano dunque il processo il direttore della struttura ed altri 15 operatori sociosanitari per tutti al momento destinatari di misure di interdizione le accuse sono di maltrattamenti continuati aggravati nei confronti di anziani e minorati psichici a scoprire in che condizioni erano costretti a vivere i 33 ospiti dell'ospizio Lager sono stati nell'ottobre scorso i carabinieri della compagnia di Battipaglia su segnalazione di due dipendenti della struttura che hanno denunciato quanto accadeva i militari hanno incastrato i responsabili con video ed intercettazioni ambientali che evidenziarono gli orrori che dovevano subire gli ospiti della struttura schiaffi minacce e strattoni rinchiusi tutti insieme in una stanza dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera con l'unico svago della televisione maltrattati dai dipendenti che gli negavano anche il permesso di andare in bagno il sostituto procuratore Francesca Fittipaldi aveva chiesto senza ottenerlo per alcuni degli indagati il carcere intanto il gruppo Piero Indinimeo ha fissato l'udienza preliminare per il 24 mazzo prossimo si sono dimessi in massa i consiglieri comunali di Ponte in provincia di Benevento oltre la metà dei consiglieri ha consegnato le dimissioni all'ufficio di protocollo tra questi 4 sono membri della maggioranza e 3 della minoranza a questo punto ci sarà scioglimento del consiglio comunale e la fine del terzo mandato a sindaco di Mario Meola secondo una prima ipotesi a far cadere l'amministrazione Meola sarebbe stata la vicenda relativa alla possibile realizzazione del biodigestore nell'area industriale del comune Sannita di nuovo ad Avellino via libera al polo enologico di eccellenza la provincia ha vinto la sua battaglia legale contro l'istituto agrario De Santis sentiamo l'università del vino resta ad Avellino e a settembre partirà il progetto della provincia sul polo enologico città di Avellinum della bassa valle del sabato e l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione a Palazzo Caracciolo nel contenzioso con l'istituto agrario De Santis si è perso un anno e mezzo dietro ricorsi e contro ricorsi e questo mi infastidisce non poco ha commentato il presidente Gambacorta ora proviamo a recuperare il tempo perso con la creazione dei laboratori per gli studenti soddisfatto anche il professor Luigi Moio che aveva minacciato di portare l'università a Portici è stato presentato questo progetto bellissimo di costruire un polo di eccellenza sulle scienze agrarie ad indirizzo enologico che è esattamente ciò che ha fatto De Santis 136 anni fa creando quell'istituto addirittura se lui fosse vivo sarebbe il primo ad essere felice perché è l'università che si insedia e fa ricerca e formazione appunto su questi suoli e in quest'area dove ad Avellino tra l'altro Avelline che è capoluogo appunto di doc prestigiosi si vengono a determinare le condizioni per avere studenti extra regionali studenti stranieri che divendono ambasciatori di questo territorio quindi che vengono qui perché effettivamente trovano una formazione di altissima eccellenza e noi perdiamo tempo io questo non l'ho mai capito non riesco a capire torniamo a Salerno i 70 milioni di euro previsti per il ripascimento della costa da Salerno ad Agropoli deve fare i conti con la perplessità dei sindaci e delle comunità dopo il confronto in provincia aumentano i dubbi e si va verso un nuovo tavolo di concertazione un braccio di ferro destinato a continuare con i sindaci che guardano con cautela se non addirittura con sospetto al progetto da 70 milioni di euro per il ripascimento del litorale salernitano predisposto dalla provincia il convegno promosso da Lions Club 2000 è stata l'occasione per sottolineare ancora una volta che le comunità intendono essere coinvolte per decidere il destino della costa che va da Salerno fino ad Agropoli noi siamo contrari al progetto così com'è ci sono modi per intervenire lungo le coste del salernitano con interventi studiati luogo per luogo perché non è vero che tutta la costa è uguale quindi interventi massicciamente uniformi non sono neanche funzionali tra l'altro queste barriere rigide già sperimentate in altri luoghi hanno dimostrato la loro inefficienza e talvolta il danno che hanno causato credo che la discussione vada approfondita anche perché il progetto non è stato ancora condiviso dai vari comuni della costa a mio parere c'è bisogno di un approfondimento particolare anche per il tipo di progetto che viene proposto un progetto penso di grosso impatto ambientale che può dare anche risultati inaspettati rispetto a quelle che sono le previsioni il sistema di intervento fatto da pennelli barriere soffolte eccetera ha dato risultati negativi in moltissime zone dove è stato a Benevento presidio in piazza contro il decreto Minniti Orlando sull'immigrazione noi sentiamo Maria Teresa De Lucia di Minniti si muore è lo slogan che hanno ribadito con forza i manifestanti dell'Appasilo 31 che sono scesi in piazza contro il decreto Minniti Orlando sull'immigrazione un presidio dinanzi al palazzo del governo per ribadire la loro vicinanza ai migranti il decreto Minniti Orlando fa la sua prima vittima a Roma un giovane selle gallese di nome Nian è stato ucciso durante una retata della polizia locale del municipio di Roma anche a Milano il giorno prima era stata fatta una retata da parte della polizia con 52 fermi 52 migranti tra migranti italiani fermati per motivi di sicurezza ebbene stiamo arrivando a mettere in discussione quella che è la libertà proprio di movimento della libertà delle persone di poter circolare liberamente per le strade semplicemente perché si è migrante si è appunto a prescindere una persona sospettabile sono dei parametri meschini e preoccupanti secondo i quali una persona e l'attività che svolge all'interno della società viene qualificata come decorosa o indecorosa ebbene lo vediamo anche con il trattamento che viene effettuato nei confronti non solo dei migranti ma anche di altre persone che provengono semplicemente da un'estrazione sociale meno agiata come lo vediamo nella nostra città nella nostra realtà di Benevento come i parcheggiatori stanno affrontando il momento di difficoltà la guerra non si fa alla povertà il problema è che la si fa ai poveri la guerra non la si fa all'effetto della crisi lo si fa a chi ne viene colpito ancora quindi il nemico non può essere il povero il nemico non può essere il migrante il nemico non può essere l'ultimo Quali proposte per un'adeguata politica di intervento sul fenomeno migratorio? Se ne è discusso ad Ariano Irpino nell'ambito di un convegno organizzato dall'Università degli Studi Nicolò Cusano Telematica Roma in collaborazione con la Fondazione Forense Ariano Irpino Erminio Grasso e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento Gianni Vigoroso Al primo posto i valori della Costituzione chiunque arriva in Italia ha il dovere di considerare questo aspetto fondamentale stessa cosa vale per l'applicazione delle norme una nazione che non comprende l'importanza di questi principi è destinata allo sfracello sociale e la posizione di Giampiero Zamorì tra i relatori più attesi ad Ariano Irpino all'interessante convegno di grande attualità sulle politiche immigratorie il problema di migranti si divide a grandi linee in due sottotemi uno è quello della disciplina degli accessi è un problema che riguarda la comunità europea riguarda l'Italia riguarda i paesi africani ed è evidente che lì bisogna intervenire in un modo disciplinato anche in termini di polizia poi c'è il problema della gestione interna ecco la gestione interna è ancora più complicata perché noi dobbiamo riuscire a far diventare italiani quelli che sono qui e quindi dobbiamo impedire che si creino delle etnie dobbiamo canalizzare queste persone verso modelli e stili di vita compatibili con i nostri e dobbiamo inserirli nei percorsi produttivi come comune abbiamo aderito al progetto presentato dal piano di zona sociale Ariano si è candidata con un immobile di proprietà che con piccoli ritocchi può essere tranquillamente completato ed ospitare fra i 10 e i 15 immigrati anche se noi puntiamo di più su famiglie che abbiano anche bambini e che credo da questo punto di vista si integrino meglio nel territorio locale E in chiusura dagli scaffali alla tv il libro I Guardiani dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni diventerà presto anche una serie televisiva in tre stagioni sentiamo Il romanzo è uscito lo scorso 13 aprile ed è subito schizzato in testa alle classifiche dei libri più venduti ma oltre che nelle librerie I Guardiani di Maurizio De Giovanni farà il debutto anche in tv lo scrittore partenopeo e la casa di produzione Cat Leia hanno presentato la storia ambientata nei sotterranei di Napoli che sarà diviso in tre stagioni e che vedrà protagonista il brillante antropologo ma anche professore universitario di Silluso Marco Di Giacomo Io racconto le mie storie poi se la televisione a tutti i livelli prende queste storie io posso essere felice perché aumenta il livello di condivisione di queste storie e di questi personaggi io posso essere solo molto 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 felice che le mie storie siano lette e apprezzate insomma diciamo amate in qualche modo da persone che di storie ne leggono tante ma soprattutto sono felice perché la nostra città racconta storie la nostra città racconta storie costantemente racconta storie bellissime e lo scrittore è molto fortunato perché lo scrittore deve solo raccogliere queste storie e metterle sulla carta non c'è niente di più semplice in partenza c'è l'idea di un soggetto di serie l'ha scritto Maurizio adesso è uscito e ora penserà al secondo e al terzo perché fin dall'inizio è stato concepito come un racconto articolato su tre tre tempi diciamo tre stagioni televisivamente io mi fermo qui ora c'è il meteo poi a seguire il TG Sport e dalle 15 seguiamo le partite di serie B con Febbre da Stadio arrivederci a Grazie a tutti. Grazie a tutti.